Questa bicicletta, pensa che è stato un regalo. Ah sì, è successo. Ma io ero lì, c'era una signora, mi fa per cortesia, mi controlla un momento la bicicletta, che devo fare una compara qui. La rossa bianca? Quella è andata a fare la compara, io ero lì e gli ho tenuto la bicicletta. Questa torna e mi fa grazie, grazie, può venire un attimo con me? Mi porta dietro, in campagna, dietro il casolare, si tira sulla sottana, si tira giù le mutande. E mi fa, prendi ciò che vuoi, quello che vuoi. E io ho preso la bicicletta, no? Allora, guarda l'altro e gli fa, scusa eh, ho fatto bene o no? E certo, cosa vuole di tirar su, le mutande? Ecco perché mi hanno fatto i colpi, i carabinieri. Ma che cazzo fai?